Italo-americana, ma con triangolazione in Olanda e Inghilterra. Diventa così la Fiat. Non più e non solo Fiat, Fabbrica Italiana Automobili Torino, come amava ripetere orgogliosamente l'avvocato Agnelli, ma da ieri FCA, Fiat Chrysler Automobiles. Si chiama così quello che è immediatamente diventato il settimo gruppo automobilistico al mondo, nato ieri dalla firma di uno storico accordo con la casa di Detroit, che da concorrente americana, prima, è diventata partner, ora. I dati sul nuovo colosso delle vetture sono stati subito resi pubblici. Sede legale ad Amsterdam, sede fiscale a Londra, quotazione principale a New York e in seconda battuta a Milano. E nell'attesa del piano industriale, che verrà presentato il 2 maggio agli investitori che dovranno sostenere l'operazione, il titolo crolla in borsa, penalizzato dall'annuncio che quest'anno i dividendi della società per azioni non verranno ripartiti tra gli azionisti. È solo per lavorare sull'abbattimento del debito e favorire gli investimenti, rassicura in un'intervista alla stampa il presidente della Fiat, John Elkan, che, dalle pagine del quotidiano della città e della sua azienda, tranquillizza chi teme la chiusura degli stabilimenti italiani, lo spostamento oltreoceano della produzione e quello oltremanica del pagamento delle tasse. Non esisterà una sola sede, già oggi ce ne sono quattro, e le tasse continueremo a pagarle in tutti i paesi in cui facciamo utili, Italia compresa. Critiche aspre arrivano dal sindacato. Ora la Fiat versa le tasse all'estero, attacca il segretario CISL Susanna Camusso, mentre Pierre Carniti, segretario dell'Organizzazione dei Lavoratori, dal 1979 all'85 attacca. Siamo diventati la periferia dell'impero. Ecco cos'è l'Italia nella nuova geografia della FCA.